Presidente Pugliese, facciamo un bilancio sulle attività commerciali di Crotone, come è andata quest'estate e soprattutto quali sono le prospettive per il nuovo anno? È stata un'estate piuttosto timida sotto l'aspetto economico-commerciale, ma questo era già nelle previsioni, perché comunque la situazione economica generale di Crotone non è che si è cambiata nel corso di questo ultimo anno, anzi ci sono dati che sono tutti negativi e lo dimostra il fatto che in questo anno specifico ci sono state diverse vertenze che hanno riguardato le imprese del territorio crotonese. Quindi tutto questo si è riscontrato in una diminuzione dei consumi, in una minore presenza nelle attività commerciali, ma c'è stato anche un rallentamento delle presenze dei turisti nelle strutture alberghiere ricettive. Insomma, un'estate di crisi? È stata un'estate sicuramente che va analizzata per i suoi aspetti negativi, al fine di porre rimedio e cercare di avviare quella benedetta programmazione che è necessario fare in tempi chiaramente giusti, per poi ritrovarci ad affrontare le tematiche con maggiore serenità.